I militari della tenenza della Guardia di Finanza di Clusone in provincia di Bergamo hanno sequestrato circa 17.000 articoli raffiguranti, marchi e loghi di società di calcio nazionale ed estere contraffatti, nonché setelai, tessili utilizzati per la loro produzione. L'attività rientra nell'ambito del piano d'azione mondiale 2014, predisposto dal corpo in concomitanza con lo svolgimento del campionato mondiale di calcio in Brasile. Le fiamme gialle, dopo un accurato lavoro di intelligence e vari appostamenti, hanno scoperto presso una ditta della Val Gandino, Sharp ed altri gadget raffiguranti quasi tutte le società della Serie A e altre delle serie minori. Sono stati inoltre rinvenuti articoli riconducibili ai più blasonati club e nazionali europei, come ad esempio Barcellona, Manchester United, Germania e Portogallo. L'attività svolta ha evitato che una marea di articoli contraffatti invadesse il mercato, arrecando grave pregiudizio sia ai regolari canali di merchandising, sia ai consumatori finali convinti di acquistare Sharp e gadget ufficiali della propria squadra del cuore. Quattro soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Bergamo per produzione di articoli di abbigliamento sportivo contraffatti. Il valore della merce sottoposta a sequestro avrebbe fruttato sul mercato circa 100.000 euro.